Benvenuto a Luca Tenani, che è County Head Italy per Shredder. Vogliamo capire da lui, alla luce del contesto di mercato, come si colloca la vostra proposta commerciale. La nostra, tanto grazie, la nostra proposizione commerciale per il 2019 sarà caratterizzata da due aree di investimento. La prima è quella legata al comparto del fixed income, dove abbiamo sempre giocato un ruolo da protagonisti. Con l'allargamento degli spread riteniamo che oggi ci siano delle aree di interesse, delle opportunità d'acquisto, soprattutto sulla componente sia corporate investment grade, con soluzioni un po' meno legate ai benchmark e più legate alla soluzione di investimento, ma anche sulla componente più governativa, quindi il classico euro aggregate bond. L'altra area sulla quale focalizzeremo la nostra proposizione commerciale è invece legata a un'area tematica. Nella fattispecie ha degli investimenti di investimento azionari tematici, quindi che cercano di catturare quei macro trend che potrebbero, in maniera sempre slegata da un benchmark, sono destinati a modificare quelli che sono i comportamenti delle aziende e a creare, sempre all'interno del mondo corporate, dei vincitori e dei perdenti. Il nostro obiettivo tramite questa soluzione di investimento è quello di andare a individuare ovviamente le aziende che vinceranno il futuro del mondo.